Benvenuti, benvenuti cari amici, siamo Biddy con questo nuovo video Naturalmente come sempre ricordo di suggerire il like, di iscrivervi al canale, iscrivervi anche il canale di Telegram Oggi andremo a vedere i top 6 meme, dai mio punto di vista, che andranno a fare i numeri in bull market Andremo a presentare 3 meme che penso voi conoscete, come Doge, Shiba e Pete E poi altri 3 meme che dai mio punto di vista sono iper mega rischiosi, però potrebbero dare grossi ma grossi rendimenti Per cui andremo a vedere il tutto all'interno di questo video E per cui iniziamo subito Ed eccoci qui per cui iniziamo andando a vedere quello che sta venendo all'interno del reparto meme E poi andremo a vedere questi 6 meme che assolutamente secondo me bisogna avere in questo bull market Quindi come vediamo, ok, a comandare troviamo sempre Dogecoin Con prezzo in questo momento di 11 centesimi e 5 Capitalizzazione di 16.7 miliardi Shiba 10 miliardi Pepe 3.8 miliardi E proprio su questi che andrò a focalizzarmi nella giornata di oggi Però poi andremo a vedere ancora 3 meme che secondo me potrebbero esplodere O che addirittura ha più rispetto a Doge, Shiba e Pepe Quindi andremo a vedere ovviamente molto più rischiosi Quindi iniziamo subito andando a vedere Dogecoin Perché è interessante la struttura che andate a costituire Cioè guardate qui Si è andati letteralmente a rompere questo trend discendente di lungo periodo Che durava da marzo fino a praticamente ora ad ottobre barra fine settembre E il buon Doge è andato a rompere Quindi attenzione perché secondo me da qui si potrebbe sprigionare Una grossa forza del cista fino in zona almeno 0.22 Per poi prendere e andare a rompere e raggiungere il target addirittura di 0.78 in pieno bull market Vedremo se effettivamente sarà così Però se andiamo a vedere anche quello che è stato Ok il passato andremo a vederlo Ma soprattutto c'è la rottura qui confermata del trend discendente Che di lungo periodo è riraggiungere i vecchi massimi di 2024 Sarebbe un 100% Quindi già qui sarebbero insomma grossi gain Primo elemento Secondo elemento ci dicono Se noi andiamo a seguire quelli che furono i cicli del 17-18 dei vari anni Ogni volta che si è sprigionato l'alving di bitcoin Postalvin ci sono stati sempre grossi rendimenti Con scarichi anche ingenti Vedete qui ci fu uno scarico già nel 17-18 di grosse entità Successivamente nuovo scarico insomma di grosse entità Anche qui si nel 2020-2021 E poi ora noi stiamo vivendo una nuova fase Fase nella quale Dogecoin sembra aver fatto il bottom E ora dovrebbe prendere e partire a razzo Quindi stiamo a vedere Ci danno diversi target da 1,5-5 Addirittura 7,78 su Doge E vedete che addirittura ci sono alcuni che danno zona rossa Ok addirittura 22 Mi sembra esagerato però vedremo un po' quello che succederà in futuro Ovviamente dovesse seguire quello che è stato il trend già del passato Dopodichè voglio mostrarvi anche quello che è la prospettiva attuale Cioè noi partiamo da qua per l'appunto Rottura del trend discendente Abbiamo un primo target Sui 0,38 Quindi insomma comunque sarebbero già grossi numeri Però guarda i target successivi Addirittura zona arancione sui 3,4 dollari e mezzo E addirittura zona rossa abbiamo visto sui 20 dollari Quindi sono veramente cifre devastanti Ovviamente Doge non dico che raggiungerà tali livelli Però già vederlo a 2 dollari Ragazzi sarebbe un 20x Quindi qualcosa di assurdo Ora cerchiamo di capire se è fattibile Perché se noi andiamo a guardare quella che fu la zona supporto di Doge Ok contro Bitcoin Guardate qui Oramai secondo me è confermata Ok questa zona qua Dei 162 Vi ricordo che durante il bull market del 21 Doge fece 663% in più rispetto a Bitcoin Ok in quel bull market Quindi questo che cosa vuol dire Che se Bitcoin andrà a fare un 2x Ok per dare una idea E che è fattibile E Doge dovesse ripetere la stessa performance Potrebbe essere proprio un 10x Ok quindi livelli tra un dollari e due dollari Quindi attenzione perché Doge ha ok queste caratteristiche Dopo che andiamo a vedere la seconda coin Shiba Prezzo di 1707 Rottura confermata da parte di Shiba Inu Quindi siamo praticamente nella stessa identica situazione Con Shib un po' più potremmo definirlo prepotente Per quanto riguarda Shiba contro Bitcoin Anche qui Abbiamo supportoni in zona 2141 Siamo a 2067 C'è ancora corsa? Sì E vediamo la resistenza qua Appena a 6.646 Quindi anche qui Secondo me Shiba ha ancora tanto Ok da dare nei confronti di Bit Quindi anche qui secondo me è molto interessante Shiba Inu Un po' come Doge E vedete che ci danno come prossimo target Quello che fu il picco del 2021 A 8.888 Quindi sarebbe circa un 4x Ok delle billettuali Secondo me Shiba andrà a rompere la TH Non avrà così problemi Tra l'altro voglio riportarvi anche questa notizia Che è fake però Perché si parla di approvazione di NTF su Shiba Ragazzi è fake Ok? Che dopo so che c'è tanta gente Ma Samu tu hai detto che ci sarà l'approvazione dell'ETF su Shiba No Ok non l'ho detto Ho detto che è fake Ok se è chiaro Dopodiché andiamo a vedere Altra coin Molto interessante Pepe Guarda qui come sta pompando Pepe In questo momento siamo a un prezzo di 9.12 E Pepe è secondo me un'altra Che andrà a fare letteralmente Sky Rockets Una coin che ormai si sta imponendo Come ho detto Secondo me Fino a zona 1000 non ci sono resistenze Dopodiché potremmo vedere Insomma un po' di Tra l'ho detto di resistenza Ma Io ritengo che su Pepe ci sia una grande community Quindi andrà a fare numeri Questa è un po' la mia idea Un po' la mia credenza Guardate qui che bel supportone Se andate a costruire contro il Bitcoin In zona 1190 Abbiamo una TH 2.489 Quindi insomma Anche Pepe Ha tanta Ma tanta Forza Ancora a sprigionare Dal mio punto di vista Dopodiché Ve lo salve anche quelle che sono alcune Previsioni su Pepe Anche le breve Si parla di un potenziale Raggiungimento Dei 1.320 Cosa che secondo me È più che sostenibile Ok nel breve periodo E addirittura Guardate qui i volumi Sono in crescita forte Perché sono a market cap Di 3.7 milioni Avere comunque un trade Ok di 1.5 milioni Da avere tanto Quindi attenzione a Pepe Perché sembra letteralmente carico Ora per quanto riguarda Pepe Andiamo a vedere un progetto Che secondo me Veramente potrebbe far numeri Pazzeschi Ok che è Pepe Unchain Perché ragazzi Questo progetto Letteralmente si ispira A Pepe Ok quindi Vuol diventare Ok quella che sarà La nuova Blockchain di Pepe Io ti lascio Letteralmente sotto Il link in descrizione Ok E ovviamente Se questo dovesse verificarsi Guardiamo qui Il prezzo di un Pepe Il momento È di 0.0098 dollari Ok Se questo dovrebbe verificarsi Sarebbe veramente Un qualcosa di pazzesco Per la chain di Pepe Perché implicerebbe Un passaggio Dalle rette Ethereum Alle rette Di Pepe Unchain Ovviamente Se secondo me Farebbe letteralmente Scherocchettare Questo progetto Quindi attenzione Anche a Pepe Unchain Perché potrebbe Letteralmente Fare numeri Ok nel prossimo Bullmarket Ve l'avevo già spiegato Anche nei video precedenti Comunque ti lascio Anche sotto In descrizione Quindi vattelo Assolutamente Vedere Un altro progetto Che potrebbe Letteralmente Esplodere Ok E questa è Letteralmente La quinta coin Secondo me Più interessante Tra quelle presentate E anche CryptoStars Perché cosa vuol fare CryptoStars Vuol letteralmente Andare a riunire Tutti i meme Token Sotto Un unico Token Ok Per offrire Un unico API Per quanto riguarda Questi meme Token Quindi Che cosa vogliono fare In definitiva Vogliono Anche qui Ti lascio Sotto la link In descrizione Perché potresti Incorrere I numerosi Scam Ce ne sono Tantissimi Ok Letteralmente In giro E se ne andiamo a vedere Un attimo Che cosa vanno a raccogliere Vanno a raccogliere Doge Shiba Pepe Tutti assieme E li vanno a dare Un unico API Quindi veramente Un qualcosa di unico E incredibile Letteralmente Nel suo genere Quindi Anche questo Secondo me è un progetto Che ha Buone potenzialità Ad andare a esplodere Ovviamente Rischi Molto Più alti Ok Rispetto A Pepe Shiba Doge Ok Ok Anche questo Token E letteralmente Esplosivo Anche questo Riguarda Letteralmente I meme Come potete Vedere E qui Ragazzi Questa è la prima piattaforma Che è GameFi Che vi permette Di andare Di andare A giocare I vostri Meme Token In numerosi Giochi Ok E di conseguenza Anche poter fare Veramente guadagni Pazzeschi Anche quindi In questo caso Ti lascio Sotto il link In descrizione Fatelo vedere E per chi si è piaciuto Questo video Ti ricordo Di Soscriviti al like Iscriviti al canale E noi Ci vediamo Presto Hasta la vista Hombre